ed eccoci ancora operativi con il nostro forum continuiamo con un altro dialogo un altro confronto e passiamo ora un tema che non avevamo ancora approfondito ma non è sicuramente meno importante per il mondo dei crediti deteriorati leggete anche in sovrimpressione la nostra strap parliamo di riforma della giustizia e principali aspetti giudiziari e di operatività bancaria legati a procedure di fallimento e crisi di imprese io voglio subito presentarvi i nostri ospiti saluto marco ferraro socio fondatore managing partner studio legale ferraro giove e associati benvenuto grazie per essere con noi e saluto andrea pavese head of mpe di banca sella grazie naturalmente anche per aver accettato il nostro invito buongiorno anche a te grazie allora io come al solito do qualche riferimento rispetto agli argomenti che andremo ad approfondire poi attraverso di voi allora nel 2021 cos'è accaduto le maggiori banche italiane hanno chiuso l'anno con notevoli risultati livelli di rendimento del patrimonio netto che effettivamente non si vedevano da molto tempo la progressiva eliminazione delle misure di sostegno ai mutuatari non ha fortunatamente impattato però in maniera importante sui tassi di insolvenza che sono rimasti su un livello gestibile livello medio gestibile per gli istituti di credito tuttavia proiettiamoci verso il futuro guardando alle previsioni dei principali analisti anche a causa della fine delle moratorie se consideriamo il biennio 2022 2023 si prevede un aumento dei flussi di deteriorato negli stock bancari e a questo si aggiungono tutti gli elementi di incertezza legati ne abbiamo parlato diffusamente anche nel corso di questo forum legato proprio alla crisi in ucraina quello che sta accadendo sul fronte geopolitico e al possibile scenario inflattivo che ne consegue con l'inflazione che continua ad aumentare l'andamento dell'npl ratio che ricordiamo essere l'indicatore a lungo termine su cui verranno valutati i propri bilanci delle banche dipenderà anche da questo cioè da che cosa dalla performance economica del nostro paese dalla performance economica dell'italia la qualità dei crediti in sofferenza quindi potrebbe proprio per questa incertezza per i punti interrogativi che ancora permangono potrebbe peggiorare ulteriormente se la ripresa economica vacillasse si era parlato di una ripresa economica più sostenuta ora gli indicatori danno una ripresa economica più rallentata proprio a causa degli eventi di cui abbiamo parlato e allora proviamo a fare un bilancio a questo punto della prima prospettiva io partirei da andrea pavese un bilancio dalla tua prospettiva sull'anno appena trascorso ipotizzare insieme quella che potrebbe essere l'evoluzione per il biennio 2022 2023 partiamo da qui poi al limite inseriamo qualche altra informazione allora due punti a mio avviso possono essere affermati con ragionevole certezza le banche hanno completato anche nel 2021 un lavoro eccellente di riduzione dei crediti deteriorati aiutate sicuramente anche da flussi di ingresso non particolarmente corposi e utilizzando anche in quest'anno lo strumento della GAX anche in modalità multi originator tutti sono migliorati e ormai la maggior parte del sistema bancario italiano mostra un NPR inserito nel gruppo dei migliori a livello europeo che secondo la dashboard deba ricordo essere inferiore al 3 per cento nel 2021 quasi l'85 per cento delle banche europee è in questo cluster nel 2017 ce n'era meno della metà l'altro punto che possiamo affermare con ragionevole certezza è che le misure adottate nel 2020 nel 2021 per sostenere l'economia dallo shock della pandemia hanno funzionato hanno evitato che si innescasse una spirale negativa sul credito che avrebbe potuto aggravare ulteriormente lo scenario ecco la graduale uscita dalle moratorie che sta avvenendo come lei prima citava senza traumi sistemici né la conferma rimane il tema delle procedure concorsuali ricorderete il documento dell'europia central bank a firma di andrea anria del maggio 21 che mostrava come nonostante la crisi il numero di procedure concorsuali fosse crollato beh questo era dovuto alla particolare situazione rispetto alle altre crisi con il lockdown dei tribunali che avevano rallentato gioco forza l'attività non venivano aperte procedure quindi c'era il forte timore che una una fetta di imprese in difficoltà non fosse stata intercettata in realtà poi abbiamo visto che nel 21 le procedure sono aumentate evidentemente rispetto al 20 ma non hanno raggiunto il livello prepandemico del bienio 18 19 ecco nel mentre di questi ragionamenti purtroppo si inserisce lo scenario del conflitto in ucraina che ha acquito già la forte tensione su disponibilità materie prime e prezzi energia ecco questo a mio avviso rischia di avere effetti ben peggiori sul sistema produttivo del nostro paese in quanto a livello internazionale forse anche europeo non è uno shock è uno shock meno simmetrico rispetto a quello generato dalla pandemia e questo sicuramente avrà riflessi sulle procedure concorsuali o sull'utilizzo del nuovo strumento della composizione negoziata certo ecco aggiungo un'altra informazione per poi fare un'altra domanda a te andrea prima di passare all'avvocato perché durante il consiglio dei ministri del 6 agosto 2021 è stato approvato il decreto legge che rinvia al 15 maggio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa il provvedimento inoltre ha sancito l'introduzione dell'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa come quindi questo mi serve insomma per la prossima domanda la composizione negoziata è da poco entrata in vigore e non si possono ancora però valutare quali saranno gli effetti almeno poi smentiscimi se sto dicendo qualcosa di inesatto tuttavia se volessimo fare delle ipotesi come potrebbe impattare sulle banche questo strumento aggiungo un altro aspetto e poi ti do ti do la parola i consulenti legali in questo contesto rappresentano sicuramente il fornitore principale per istituti bancari e gestori offrendo proprio la consulenza necessaria per lo svolgimento delle procedure giudiziali che sono legate alle sofferenze è così allora intanto il rinvio delle entrate in vigore della normativa era previsto diciamo che l'istituto della composizione negoziata si inserisce nella direzione ormai iniziata 15 anni fa che ha timidamente iniziato a spostare almeno in parte la gestione della crisi di impresa su un piano più privatistico cercando di responsabilizzare i creditori con l'obiettivo di ridurre la pressione sui tribunali potenzialmente potenzialmente quindi nei prossimi mesi assisteremo a una crescita forse esponenziale di questa nuova procedura le strutture di restructuring interne delle banche che negli ultimi anni avevano visto una dinamica di riduzione di numero di posizioni seguite sono a mio avviso le principali candidate per essere investite nella gestione di queste posizioni in quanto possiedono il know-how economico giuridico necessario per essere parte attiva in questi processi che lo ricordo necessitano di una presenza molto più attenta e un presidio da parte dei creditori specie di estrazione bancaria cosa ci auguriamo che l'immersione anticipata della crisi porti sicuramente a una minore dispersione di valore e quindi minori costi complessivi oltre a una forte accelerazione dei tempi di risoluzione delle difficoltà o a una liquidazione ordinata e veloce il tema del tempo è cruciale ormai il calendar provisioning non è più all'orizzonte serve veramente una forte accelerazione un tema forse di attenzione potrebbe essere sulle capacità di risposta nel breve per gestire una procedura da parte di alcuni grandi servicer che hanno ricevuto in gestione negli ultimi anni una mole elevata di credito da parte delle banche ok ok allora è emerso insomma intanto sono emersi tutti i vari attori chiamiamoli così di questa situazione il tema del tempo cruciale anche questo un altro aspetto molto interessante ora parliamo del del tema delle reti della sinergia altro aspetto che è emerso anche in altre tavole rotonde in altri dialoghi che abbiamo avuto nella giornata dei lavori di oggi a questo punto marco ferraro alla luce dei recenti sviluppi normativi abbiamo appunto sentito ad andrea per quanto riguarda la sua parte ora vediamo l'altra l'altro lato della medaglia quello che proprio ha a che fare con ciò che segui tu ogni giorno a proposito di rete sinergia come cambierà secondo te secondo voi la collaborazione proprio tra tutti gli attori che abbiamo citato quindi studi banche gestori io partirei dall'osservazione su quanto diceva andrea pavese un attimo fa si è il retrackering è sicuramente un'attività che deve essere svolta gestita coordinata all'interno delle strutture bancarie o dei gestori ma non c'è dubbio su questo perché hanno tutti hanno una visione a 360 gradi mi permetto di osservare che sul profilo della della gestione degli strumenti legali che possono essere talvolta marginali talvolta invece fondamentali per un buon risultato dell'attività di restructuring la conoscenza dell'orientamento della curia piuttosto che dei tempi di eventuale contenzioso possono essere un contributo importante cioè io vedo la necessità di una collaborazione sinergia degli studi legali di coloro che sul territorio hanno poi il polso della della situazione dei procedimenti giudiziari con le strutture interne della banca anche lì è utile infatti venendo alla domanda che mi hai fatto manuela la situazione è stata nel 2020 sin dal dal marzo 2020 e per tutto il 2021 la situazione molto difficile per quanto riguarda le attività degli studi legali perché il rallentamento il blocco prima il rallentamento delle procedure esecutive ha fatto sì che ciò che veniva svolto dal punto di vista delle attività giudiziarie prima in un anno oggi sia in questo periodo sia stato svolto in due o forse in certe circostanze soprattutto in certe aree geografiche questo è sicuramente stato una una difficoltà per gli studi legali soprattutto quelli piccoli che collaborano con le banche a poter avere una virgolette performance minima dal punto di vista della gestione ma il problema è di collaborazione è da vedere a 360 gradi cioè la realtà è che questo le banche l'hanno capito e nel lavoro di pulizia di cui faceva cenno andrea pavese prima è stato molto importante aver avuto degli studi legali strutturati organizzati di riferimento che non avessero il problema di come si dice dover gestire un rallentamento delle degli monumenti per intenderci proprio perché all'interno di un rapporto strutturato e complessivo con con le banche o con i con i gestori che abbiano collaborato con loro appunto per fare questo lavoro di grande pulizia del del pregresso ora io ritengo che ovviamente questo periodo di crisi abbia fatto emergere solo in parte le le crisi reali all'interno di diverse aziende quindi ci affronteremo sicuramente un 2022 che purtroppo per effetto anche della 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 guerra in ucraina dell'aumento dei costi delle materie prime sicuramente sarà un anno molto difficile da questo punto di vista ebbene anche qui anche qui a maggior ragione e banche che hanno fatto questo percorso virtuoso nei due anni precedenti si dovranno nel 2022 a dover a dover affrontare una mole importante di lavoro di gestione crisi da gestire e entrando a parlare proprio della 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 crisi di presa della riforma del procedimento fallimentare beh insomma eh la negoziazione gli strumenti negoziali l'ampliamento dell'autonomia eh negoziale privata rispetto al procedimento eh eh statuale giudiziale beh è uno strumento anche lì molto importante se verrà gestito in ehm eh eh con un team che dovrà coordinare appunto il e analizzare le possibili soluzioni ehm eh sin dall'inizio sin dalla dall'inizio della 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 cognizione eh sin da UTP per intenderci eh insieme in sinergia fra eh struttura eh struttura eh struttura eh gestione della eh del restructuring e e e gestione dell'NPL che poi eh certo eh e quindi studi legali. Gli studi legali ehm di riferimento specializzati nel settore con capacità gestionali e organizzative eh eh ci sono. È più difficile eh questo l'hanno già fatto in parte i gestori ehm trovare questa sinergia quando si usa la cosiddetta la cosiddetta rete territoriale cioè quella di eh centinaia migliaia eh di professionisti di avvocati che eh eh ha poco hanno ehm la possibilità di eh dare una sinergia anche in termini eh eh informatici. No no chiarissimo peraltro tu l'hai detto molto bene Marco io insisto sul punto che vede come nel duemila e ventuno abbiamo vissuto appunto la pandemia che ha rallentato eh molti contenziosi procedure esecutive che andranno quindi recuperati nel duemila e ventidue chiaramente con un sforzo e un lavoro ulteriore da parte degli studi e adesso appunto lo hai ribadito tu ed era emerso anche prima con Andrea ma insomma è un tema che abbiamo eh preso e fatto nostro lungo tutta la giornata di lavori eh si è unita anche l'incertezza della della crisi geopolitica dell'Ucraina che ovviamente in quanto crisi rallenterà una situazione che già di per sé arrivava più eh come dire frammentata no? Questo è un punto da cui sicuramente partire se vuoi aggiungere altro su questo aggiungi pure io ti aggiungo però a mia volta un'altra domanda cioè a questo punto quali strumenti possono facilitare la vostra capacità consulenziale nei confronti dei clienti da una parte dall'altra andare così a incidere positivamente nonostante questi rallentamenti di cui abbiamo parlato sull'esito delle procedure di contenzioso per capire insomma un po' anche come ottimizzare come purtroppo far di necessità virtù mer verrebbe da dire insomma anche se poi è molto più ampia la la questione. l'integrazione negli aspetti gestionali fra attività bancaria del gestore e attività degli studio legali è un tema che era già nato eh prima della della crisi ehm come ho accennato alcuni gestori alcune banche si sono organizzate attraverso la ristrutturazione della rete dei eh dei fiduciari esterni dei collaboratori esterni ehm diversa è quella attitudine eh che hanno alcuni gestori a utilizzare dei professionisti per attività che io definisco paralegal cioè quelle non contenziose e su quelle ovviamente la competenza eh legale eh è necessaria ma la visione del eh dello sviluppo degli strumenti giudiziali e non giudiziali per la risoluzione della crisi è una visione che può essere sicuramente migliore da parte di studi legali organizzati e da questo punto di vista l'organizzazione è fondamentale. L'organizzazione degli strumenti legali deve essere a specchio rispetto ai eh eh i stakeholder ai clienti che sono appunto banche gestori cioè deve avere un alto livello di informatizzazione un alto livello non ce lo scontiamo di eh gestione della privacy e di cyber security eh deve avere strumenti informatici che siano in grado di eh dialogare con quelli con dei gestori o delle banche ripeto e eh che siano in grado di interagire sotto il profilo della condivisione dei dati dell'integrazione dei dati eh fra dati della gestione del credito eh interni commerciali e dati giudiziali eh esistono degli strumenti eh non esiste devo dire eh dal lato degli studi legali ancora eh uno uno strumento diciamo eh leader di mercato uno strumento standard per l'integrazione tra la gestione degli NPL e la gestione del eh appunto eh delle procedure giudiziali eh la realtà è che eh qui nasce la necessità della partnership con le aziende, con le banche, con i gestori eh partnership che si è già realizzato in qualche caso ehm con con una governance più dal lato bancario eh ovviamente che dal lato eh dei professionisti anche perché nella cultura generale farlo eh degli degli avvocati, degli studi legali l'aspetto tecnologico è ancora molto carente questo è un è un profilo eh che mi sta molto a cuore abbiamo appena eh finito di eh predisporre eh la seconda edizione di un manuale che che proprio parla di questo, della governance eh strategica degli studi legali, della necessità di utilizzare strumenti eh tecnologici che sono eh visti quasi da ancora purtroppo dalla categoria come degli orpelli e non come degli strumenti necessari. Quindi integrazione. In questa integrazione ultimo punto e poi ehm mi taccio è quello della eh gestione economica. Eh purtroppo nella anche qui nella cultura degli studi legali esiste la gestione per competenza per cassa cioè eh i bilanci non si fanno per competenza e questo crea un altro problema di eh sinergia quando si debba andare a costituire una sta che sono le nuove eh frontiere della collaborazione fra aziende e professionisti eh eh ci vuole anche un cambio di mentalità, una cultura della gestione ehm economica per competenze che le aziende hanno ma molti avvocati non hanno ecco. Per cui è un work in progress in cui la sinergia eh ha eh il pilastro fondamentale della eh della parte informatica che deve eh solo la quale c'è ancora molto da lavorare. Certo no ma in realtà Marco tu hai aggiunto un tassello importantissimo eh quasi in conclusione del forum ed è un punto su cui poi magari vi vi chiedo di 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 fare una chiusa proprio visto che questo è l'ultima l'ultima tavola rotonda perché sinergie io parlavo di reti e sinergie che è un aspetto che è già emerso ma qui parliamo proprio di eh sinergia a 360 gradi sia tra persone che tra sistemi cioè sistemi che devono dialogare e poi quindi dati al centro dell'attenzione che bisogna assolutamente conoscere e qui collegamento che viene spontaneo ed è assolutamente importantissimo la formazione cioè bisogna aggiornarsi bisogna probabilmente anche accelerare tutti quei processi formativi ehm che magari erano un po' più latenti e che adesso invece hanno bisogno proprio di avere una marcia in più no? No è corretto Marco cioè si deve partire proprio da qui per poi arrivare a tutti gli altri passaggi che abbiamo giustamente analizzato. Poi chiedo anche Andrea perché questo punto secondo me può essere proprio la chiusa adatta per questa giornata di lavori. Marco dico bene? Non era preparata questa domanda ma... Infatti è una anch'io lo ho... Migliore chiusa non ci poteva essere. Mi occupo da da oltre vent'anni di gestione organizzata degli studi legali cioè di una modalità di gestione dell'attività professionale che doveva deve e dovrà assolutamente cambiare in cui l'organizzazione per processi, la gestione dei sistemi qualità, la gestione della privacy ancor più oggi, della gestione della sicurezza informatica, la gestione dei dati in maniera coordinata e utilizzabile da parte dei clienti è fondamentale. Ho fatto una battaglia personale, abbiamo parlato di governance strategica degli studi legali associati a tutti i livelli, come studio FGA all'interno dell'associazione italiana degli studi legali associati, abbiamo pubblicato adesso ripeto la seconda edizione di questo manuale, il tema è non c'è miglior futuro per l'attività professionale che è quella di un cambio strategico di visuale in cui strumenti, formazione e anche organizzazione economica sia sempre più improntata alla sinergia, all'incastro dei processi con i propri stakeholder, con banche, gestori in tutte le norme. Ci vuole ovviamente una cultura che le aziende hanno da quel punto di vista, ma ci vuole anche la cultura giuridica perché io che mi occupo di questo anche per altri settori, quello assicurativo principalmente, ho sempre trovato grande capacità organizzativa ma a scarsa conoscenza della gestione, dei dati e delle conseguenze che questa gestione può avere sotto il profilo giudiziario. Conoscere bene il processo e quello che può accadere all'interno di una procedura esecutiva nel nostro caso è assolutamente indispensabile per ottenere un miglior risultato nella gestione del credito. Certo, ma infatti in realtà ho preso una considerazione, l'ho vestita da domanda, ma voleva essere proprio un modo per tirare le somme rispetto a quelli che sono gli aspetti importantissimi, quindi insomma la chiusa mi fa piacere insomma di capire che è sicuramente mirata. Stessa cosa chiedo Andrea insomma di tirare un po' le somme ma soprattutto rispetto anche a quello che è stato detto prima, insomma anche alla luce di quello che ha detto l'avvocato insomma, formazione, sinergia, conoscenza, gestione economica, competenza, non si può prescindere più da questo, ancora meno rispetto a prima. Cosa ne pensi Andrea? Proprio come tua opinione, tua considerazione e poi vi saluto. Vabbè quello che ha detto l'avvocato è assolutamente corretto, la gestione del dato è essenziale ed è fondamentale. Chi non lavora in banca non può immaginare nemmeno quanto ormai l'attenzione sul dato sia la cosa più importante e prioritaria, quindi negli ultimi vent'anni quello che è stato la gestione del credito deteriorato o del recupero crediti ha avuto uno sviluppo dal punto di vista informatico incredibile, quindi lavorare con studi legali che siano in grado di comprendere questo per le banche è fondamentale, il dato soprattutto per la gestione attuale e per i ragionamenti futuri. Per quello che riguarda la formazione, Savas a San Dier è fondamentale in un mondo che cambia alla velocità a cui siamo abituati adesso, la formazione dal punto di vista tecnico e manageriale è decisiva e la mia azienda negli ultimi anni ha ampliato in maniera sensibile il budget perché la differenza alla fine la fanno le persone e la fanno le persone preparate. Eh sì, è vero, è vero, è vero. Vedete che bella chiusura che abbiamo portato a questo forum di oggi. Grazie a Marco Ferraro, socio fondatore, managing partner, studio legale Ferraro, giove associati, grazie davvero per essere stato con noi, per essere stato uno dei protagonisti del nostro forum, grazie davvero. Grazie a voi. E grazie Andrea Pavese, head of MPE di Banca Sella, stessa cosa a te, insomma è stato molto utile questo spazio di approfondimento, grazie mille. Grazie a voi. E allora speriamo di essere stati utili anche a tutti voi, termina qui l'MPLUTP forum organizzato in esclusiva dalle fonti, naturalmente avete visto anche passare in sovrimpressione il nostro prossimo appuntamento per tutti gli aggiornamenti, insomma potete cercare la parte dedicata agli eventi sul nostro sito, ma insomma vi terremo sempre aggiornati e ripeto speriamo di essere stati utili per questo tema che davvero per i prossimi mesi sarà cruciale e centrale. Grazie per averci seguiti e vi auguro un buon proseguimento di giornata.